lanciare la pallina tennis da una mano all'altra cercando di usare solo il polso rivediamo cambio di mano frontale portando la palla all'ortezza delle spalle o alto concentrarsi sulla schiena del polso e che il palleggio sia forte di nuovo cambio di mano frontale portando la palla all'ortezza delle spalle o alto concentrarsi sulla schiena del polso e che il palleggio sia forte cambio di mano frontale portando la palla all'ortezza delle sinoglie concentrarsi sulla schiena del polso e che il palleggio sia forte ancora una volta cambio di mano frontale portando la palla all'ortezza delle sinoglie concentrarsi sulla schiena del polso e che il palleggio sia forte Grazie a tutti.